I miei di Accordo.it abbiamo qui Yard Gavrilovic, il drum tag storico di Steve Gerd, che ci descriverà un po' nei dettagli il set che Steve usa in questa clinica. Il primo è un A-Custom, 15 inch, con 8 rivetti. Il secondo è un K delt crash fin, 18 inch. Questa è un'orchestra, Constantinople, 20 inch, medium, high, low. Abbiamo qui, questo è un vecchio K, che Steve ha comprato da Gretsch Factory, in le 60's. E l'ultimo è un 14 inch A-Custom, con rivis. Questa è un StimCad, 14x5 stile, 10 inch Tom, 12 inch Tom, 14, 16. Con un basso di 22 inch, che è MAPLE, e tutti i Toms sono BIRCH. Ok? Ok. Ok. Quindi, hai seguito a Steve da un lungo tempo? Beh, da circa 14-15 anni. Ok. E Steve è fantastico di lavorare con lui. Ok, fantastico. È un ottimo uomo, molto divertente. E può giocare il drum. Un pochino. Ok. 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 Ok.